Vi starete chiedendo È veramente necessario l'ennesimo canale di cucina? Musica? Viaggi? Fai da te? Starete pensando Ecco altri due tuttologi che vogliono diventare nuovi influencer del tubo Forse sì O forse no Nessuno ha la pretesa di insegnare la vita a nessuno ma Con semplicità e ironia vogliamo condividere esperienze e passioni nella più semplice delle forme Vogliamo spaziare dal lobby per la musica Alla cucina di noi dilettanti ai fornelli Ridere insieme delle insolite figuracce vissute durante i nostri viaggi Realizzare stravaganti creazioni homemade per la casa ed il tempo libero Insomma, ci improvviseremo! Senza alcuna pretesa Musicisti Cuochi Artigiani E vlogger Vi piace la nostra idea? Allora seguiteci! Clicca su iscriviti per non perdere nessun video! Ciao!